Il genitore ha sempre negato di aver compiuto il duplice delitto nel corso delle indagini, infatti lo ricordiamo, l'imputato raccontò di essere vittima di un complotto dei servizi segreti che volevano pulirlo per la sua attività di consulente informatico. L'accusa sostiene invece che De Marco uccise i genitori per motivi economici. Il processo proseguirà il 9 luglio con la deposizione dei due medici che effettueranno sul De Marco la perizia psichiatrica.